Purtroppo ci sono due cose che sono importanti, vivere, che ci sta mancando. La gente non capisce che oramai, o i polizi non capiscono che oramai non ce la facciamo più. Siamo veramente alle strette. E purtroppo ci sono dei casi che sono importanti i valori. L'atteso primo passo verso una parvenza di normalità. La campagna torna ufficialmente in zona arancione, lasciando il rosso simbolo di chiusure, della rabbia, delle difficoltà, della crisi, delle tante persone risultate contagiate dal Covid e alcune purtroppo morte. Dunque arancione per la regione campagna, con regole di vieti meno rigidi, anche se l'atteggiamento di prevenzione da parte dei cittadini deve restare davvero alto. Perché già altre volte il comportamento sconsiderato, la troppa faciloneria, hanno portato, dopo il giallo e l'arancione, a condizioni nuovamente di criticità, solo poche settimane dopo. Quindi arancione, ma con la consapevolezza di dover fare ancora più attenzione di prima per contrastare la diffusione del coronavirus. Veniamo nel dettaglio a capire cosa succede, in particolare con quest'ultima novità. Il coprifuoco è previsto sempre dalle ore 22 alle 5. Ci si potrà spostare ogni giorno verso una sola abitazione privata in ambito comunale in non più di due persone, oltre agli under 14 e i soggetti disabili o non autosufficienti. Gli spostamenti verso altri comuni e quindi anche quelli verso altre regioni e province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si torna alla didattica in presenza per le scuole materne, elementari e medie, mentre per le superiori si deve garantire l'attività didattica in presenza almeno per il 50% e fino al 75%. La rimanente percentuale continua con la didattica a distanza. Fino alle 22 è consentita l'attività di ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegne a domicilio. Per bar e altri esercizi simili senza cucine, l'asporto è consentito fino alle ore 18. Esercizi commerciali invece tutti aperti in zona arancione con i consueti orari, compresi quelli per i servizi alla persona, quindi parrucchieri, estetisti ed altro. Rimangono chiuse le palestre e le piscine. In zona arancione è consentito tra l'altro svolgere attività sportiva o motore all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di quantomeno 2 metri per l'attività sportiva, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. E' consentito recarsi presso centri e circoli sportivi pubblici e privati del proprio comune o in assenza di tali strutture anche in comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto attività sportiva di base. E' interdetto invece l'uso di spogliatoi interni nei circoli.